Per tutti quelli ancora a casa, venite tutti qua in piazzetta, trucca bimbi per tutti i bambini, palloncini e tanti giochi. Io sono Francesca, siamo al centro del quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo in provincia di Milano. Una volta al mese cerchiamo di visitare e abitare le piazze dei diversi punti del quartiere in cui la parrocchia sta e organizziamo delle feste a tema. Questo perché cerchiamo di favorire l'integrazione e la conoscenza tra culture diverse attraverso il gioco, attraverso il ballo o comunque attività di intrattenimento che aiutano le persone a conoscerci e a dialogare. Due, uno, due, uno, due. Sono Stefania, sono mamma di tre figli. Frequento e vivo questo quartiere, il quartiere Crocetta. Per noi è questo l'importante, cioè incontrarsi, conoscersi perché se ci si conosce tutto diventa più facile e le barriere sicuramente cadono. Adesso cominciamo questo impasto ad appiattirlo e metterlo su una padella, bravi. Il risultato, speriamo, dovrebbe essere il sonso di yuca. Insieme alla parrocchia San Pietro Martire lo scorso giugno abbiamo partecipato al progetto Tutti per Tutti e con nostra sorpresa ci siamo classificati al sesto posto portandoci a casa una piccola cifra economica che ci ha permesso di finanziare tutte le attività che stanno dietro al nostro progetto, al progetto Noi. Penso che qui sia davvero molto importante l'accoglienza, il dialogo, il sorriso, il rapporto personale con la gente. Uno deve sentirsi accolto in una comunità, io ritengo che questo sia indispensabile in questo luogo. Uno, due, tre! Mamma mia che allegria! Gli pippe? Hurra! Gli pippe? Hurra! Gli pippe? Hurra! Perché? Stiamo trattando di mangiare? Sì! Allora mangiamo! È danno giusto! Non lo sono giusto!